Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Il triangolo più chiacchierato d'Italia continua a sorprenderci Totti, Ilari e Noemi sono sempre al centro del gossip italiano Questa volta però, Ilari subisce una difficile batosta. Ecco, cosa ha combinato Totti Da quell'11 luglio quando Francesco Totti e Ilari Blasi hanno annunciato la separazione, i pettegolezzi sulle presunte motivazioni dell'addio corrono sempre più velocemente È certo però che un nome riecheggia costante tra le riviste italiane e corrisponde a quello di Noemi Bocchi La donna sarebbe l'attuale compagna del pupone, colei per la quale l'uomo avrebbe perso la testa tanto da far saltare all'aria un matrimonio ventennale C'è chi giura che le cose tra Ilari e Totti non andassero bene da molto tempo, e l'entrata in scena di Noemi fosse, solo l'ultimo tassello di una relazione in rovina Punto L'ex pupone avrebbe voluto salvare a tutti i costi il matrimonio con la bella conduttrice, ma Ilari, apparsa ai suoi occhi sempre più distante ed indifferente, avrebbe allontanato definitivamente il marito Totti, così, ha deciso di rivolgersi altrove trovando le braccia aperte di Noemi Bocchi Tra i due, la cosa sembra essere molto più che flert estivo, Totti e Noemi proseguono il loro affaire lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere Eppure, non vi è luogo segreto in cui i paparazzi non arrivino Per quanto l'ex calciatore e l'ex amante provino a divincolarsi dai fotografi, questi riescono sempre a beccarli, mentre frequentano gli stessi posti ed entrano nelle stesse case Segno questo di una relazione che va avanti nonostante le intemperie dei media Totti, infatti, vorrebbe continuare nel più stretto riservo soprattutto per il bene dei suoi figli, ma Noemi si starebbe, invece, stancando e desidererebbe vivere il nuovo amore alla luce del sole Il divorzio e le nuove immagini di Noemi e Francesco.I più curiosi, quindi, attendono con ansia nuove notizie sulla separazione dell'ex coppia d'oro di Roma Francesco e Ilari avrebbero atteso l'estate per procedere legalmente, ma hanno già entrambi ingaggiato i migliori, avvocati e divorzisti del paese pronti a quella che si prospetta una vera e propria battaglia legale Malgrado le speranze di concludere il tutto il più presto possibile, c'è da tenere conto che i due nel tempo hanno costruito un vero e proprio impero economico, e ora questo patrimonio, comprese le società in comune, va diviso equamente Per non parlare del tasto dolente custodia dei figli sul quale è necessario porre la massima attenzione per far sì che, i tre ragazzi non soffrano ulteriormente Di certo però, le immagini di Totti e Noemi recentemente trapelate, grazie al giornale, che non possono assolutamente far piacere ad Ilari e compagni anzi, paiono un vero e proprio schiaffo morale al loro amore Gli attenti fotografi di chi hanno beccato Totti e Noemi giungere nello stesso ristorante con macchine separate I due hanno cenato però, nel medesimo tavolo e nonostante i vani tentativi di seminare gli occhi dei paparazzi, sappiamo, proprio grazie a loro, che hanno passato la serata insieme Il ristorante pare uno dei più amati dal pupone, un luogo molto caro anche ad Ilari dove un tempo, quando tutto scorreva liscio, erano soliti andare insieme ai loro figli Adesso però, le cose sono cambiate e a cena ci porta solo la bella Noemi Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace, e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti